buongiorno ragazzi e benvenuti lezione numero 34 abbiamo iniziato l'ultima volta a parlare di giocatori artificiali quindi abbiamo iniziato a discutere l'algoritmo minimax che sicuramente dovremmo riprendere e vi avevo detto che il prossimo passo sarebbe stato quello di implementare un giocatore artificiale usando minimax per il gioco del tris ed è del resto davvero il prossimo passo che dobbiamo fare però c'è un problema che voglio anticiparvi e quindi offrirvi già la soluzione è un problema che in realtà avrete tutti voi che nei progetti dovete implementare una intelligenza artificiale quindi e quindi quasi tutti ovvero il problema è che l'algoritmo di minimax come magari anche monte carlo o altri algoritmi sono sono delle tecniche che hanno un'elevata complessità e questo meno male abbiamo capito l'ultima volta sì ci sono dei trucchi per diminuire questa complessità però comunque la complessità rimane da cosa si vede beh si vede dal fatto che per esempio se io vi faccio adesso vi mostro un'applicazione finale come per esempio il gioco degli scacchi quello che vedo è che quando io giocatore umano eseguo una mossa il giocatore artificiale per eseguire la sua mossa impiega del tempo ora in questo caso ha impiegato due secondi ma non è sempre vero che impiega due secondi dipende anche dalla complessità del gioco in quel momento dalle valutazioni che sta facendo ecco già non sono più due secondi stanno passando 6 7 8 9 10 10 secondi ok tra l'altro questa è una difficoltà media già ecco possiamo capire cosa significa difficoltà la difficoltà del minimax sarà la profondità del del giocatore artificiale quindi applicando la tecnica del taglio andiamo a tagliare l'albero di gioco ad una certa profondità che è direttamente proporzionale alla difficoltà questo perché perché più in avanti taglia meglio gioca e se meglio gioca il giocatore artificiale più è difficile la vita per il giocatore umano e quindi la difficoltà ok questo però per dire cosa per dire che comunque c'è un'attesa ma non è un'attesa in cui si dice vabbè aspetta io non faccio niente è un'attesa in cui il computer viene impegnato l'elaborazione è pesante ora questa applicazione già contiene la soluzione al problema quindi qui il problema non si vede anzi vi faccio vedere per esempio che se io faccio adesso un'altra mossa che cosa che cosa devo fare ok faccio un'altra mossa di questo tipo vedete che l'interfaccia grafica comunque continua a rispondere si illuminano delle caselle posso ridimensionare l'interfaccia grafica posso anche navigare nei menu posso per esempio mentre sto aspettando la mossa dell'avversario posso curiosare tra questi menu vedere chi ha fatto sto gioco perché l'ha fatto come l'ha fatto eccetera la mossa ancora non l'ha fatta vabbè quindi ci stanno volendo più di 10 secondi però si sente anche la ventola del computer che sta per partire ecco qua mossa eseguita tutto questo per dire che l'interfaccia continua a rispondere alle vostre esigenze ma ragazzi del resto questa è una cosa che si nota in realtà in tutte le applicazioni cioè mentre io magari sto scrivendo un documento e c'è un corretto ortografico in background sullo sfondo che sta controllando la mia ortografia e non sta facendo solo il controllo del dizionario sta facendo tutta una serie di controlli che non è come abbiamo fatto nel note fatto clic destro e trova la parola sta facendo un controllo di tutto il testo di tutta l'ortografia della punteggiatura eccetera sono cose che impegnano tempo ok e me mentre queste cose vengono eseguite io però continuo a scrivere a usare quindi la mia applicazione quindi dove voglio arrivare ragazzi voglio arrivare ad una cosa che già abbiamo discusso però non abbiamo mai fatto questa discussione all'interno di Qt all'interno dell'interfaccia grafica mi riferisco ai thread vi ricordate quando abbiamo fatto la lezione un po di tempo fa sui thread vi dissi che i thread consentono di eseguire diverse cose in maniera concorrente cioè negli stessi istanti non nello stesso istante nei stessi intervalli di tempo che significa che mentre io cioè nei secondi nei minuti in cui utilizzo questa applicazione l'applicazione comunque è libera di fare anche altre cose che sono a servizio dell'applicazione stessa e tutto questo si chiama poi multitasking cioè la programmazione multitread serve a risolvere il problema del multitasking cioè mentre io faccio una cosa bisogna farne un'altra e un'altra e un'altra ancora magari con una sola cpu quindi i thread servono appunto per fare cose diverse nello stesso intervallo di tempo allora quale sarebbe invece l'alternativa cioè cosa succederebbe se io anziché usare più thread mi disinteressasse quindi cosa succederebbe se voi adesso provate a fare i progetti vi dimenticate perché effettivamente era una lezione all'inizio e magari non c'ho poi adesso ci sto ritornando supponiamo che non ci fossi mai ritornato su quella lezione supponiamo quindi che voi iniziate a iniziaste a a fare non lo so nel 2048 tutte le esplorazioni con monte carlo chi sta facendo scacchi chi sta facendo air traffic control dei gestieri mentre la simulazione tra l'altro sta si sta visualizzando cioè c'è un'animazione nella visualizzazione nella simulazione e nel cubert che ne so mentre uno sta giocando bisogna bisogna fare bisogna prendere le decisioni per quanto riguarda i nemici dove dove muoverli e bijeweld pure la stessa cosa bagmon ragazzi praticamente quasi tutte le applicazioni che avete scelto hanno questa componente ora che succederebbe se voi non usaste la programmazione multi thread succederebbe una cosa molto simile a quello che sto per mostrarvi cioè in maniera molto spiccia qua io sto simulando se io premo start vado a simulare quella che è una elaborazione ora magari poi andremo nel codice vi faccio vedere che realtà non si sta facendo niente di eclatante non è un'intelligenza artificiale però è un codice che impiega del tempo nel frattempo mentre io quando premerò start è come se questo codice ha conoscenza cioè sa quanto sa a che punto è arrivato avete presente come ci sono le barre di progresso ecco questa è una barra di progresso che quando io premerò start verrà animata no quindi immaginate che ne so che voi state esplorando il vostro albero di gioco e che ne so ci avete 15 mosse da valutare dividete la barra per 15 ogni volta che finite di valutare una mossa i date un quindicesimo della barra così l'utente vede anche prima negli scacchi purtroppo non c'era questa cosa c'era solamente una scritta dicendo la intelligenza artificiale sta pensando ora immaginate però che sia un task ancora più lungo che impiega magari dei minuti beh in quel caso sarebbe giusto dare all'utente un'indicazione del progresso ormai le barre di progresso l'avete viste comunque bene in effetti è quello che succede io premo start la barra di progresso va avanti e quando finirà aia come mai è successo una cosa del genere attenzione io attendevo una cosa del genere però alla fine ce l'ho fatta quindi attenzione il programma non si è interrotto non è crashato c'è stato un momento in cui apparentemente il programma si era bloccato però poi abbiamo visto che in realtà ha terminato il suo compito proviamo a rifarlo un'altra volta si interromperà sempre a 45 per cento quindi c'è un bug da qualche parte no vedete 45 per cento è andato a buon fine addirittura siamo arrivati alla fine e quindi caspita una volta succede una cosa una volta succede un'altra cosa vi ricorda questo comportamento un comportamento che non è prevedibile ragazzi questo accade spesso e volentieri quando di mezzo ci sono dei malfunzionamenti a livello di trend ora che significa malfunzionamenti cerchiamo di fare adesso un altro tipo di interazione oltre a premere start quando lui sta eseguendo il compito proviamo un po come ho fatto negli scacchi a curiosare nell'applicazione che significa curiosare cliccare un po a cavolo ingrandire la finestra eccetera proviamo per esempio a ingrandire aia non mi fa ingrandire la finestra è strano non appare il cursore che mi indica l'ingrandimento della finestra vabbè dite hai disabilitato tu l'ingrandimento della finestra no non è vero l'ingrandimento della finestra è sempre stato abilitato non c'è mai stato nessuno che ha disabilitato quella quell'evento quindi che sta succedendo posso fare stop aia questo è in gergo il cosiddetto freeze dell'applicazione cioè quando un'applicazione in windows questa cosa si traduce in uno strato di opacità ogni sistema operativo c'è il suo stile per fare il frizz nel mac non c'è lo strato di opacità però appare comunque una cosa colorata per insomma per non spazientare l'utente ma comunque anche lì c'è il frizz anche in linux in tutti i sistemi operativi purtroppo le applicazioni possono frizzarsi è stata una coincidenza no guardate non posso nemmeno addirittura non posso chiudere l'applicazione come è mai possibile una cosa del genere dice che non sta rispondendo ecco vedete non è crashato quando è crashato il sistema operativo mi dice as stop working qua dice che is not responding è diversa la cosa stop working è è crashata e vabbè c'è un bug not responding significa che probabilmente se una cosa non risponde è impegnata a fare altro ok ed è proprio il caso in esame andiamo a vedere nel codice per vedere se c'è qualche qualche bug qualche qualche stranezza in realtà vi dico che non c'è quindi quello che vi farò vedere è abbastanza è abbastanza un po quello che fareste voi ovvero abbiamo una finestra che contiene un pulsante di start un pulsante di stop una barra di progresso e poi un altro pulsante che non usiamo per adesso lasciatelo stare fate finta che non ci sia qui ci sono questi tre pulsanti e quando premo start che mai succederà quando premo start andiamo a vedere che succede ovviamente ci immaginiamo che ci siano delle connessioni nel costruttore di questa finestra che connette start allo slot start stop allo slot stop eccetera quando start viene premuto beh si va ad attivare la barra di progresso si attiva il pulsante di stop si disabilita il pulsante start perché l'ho premuto quindi lo voglio disattivare e ecco qua questo è il codice tutto quest'altro codice un codice commentato o meglio non attivato in funzione di una una macro che non è definita quindi è un codice trasparente non c'è non viene compilato poi l'unico codice che viene compilato è questo ecco questo è quello di cui parlavo cioè simulare un task intensivo simulare un'intelligenza artificiale simulare qualcosa che impiega del tempo come facciamo a impiegare del tempo per esempio un ciclo di mille iterazioni all'interno di ogni iterazione noi diciamo un po come dicevamo abbiamo usato una cosa del simile l'abbiamo usato per per vi ricordate simulare anche in quel caso da un simulare lo scorrere del tempo la task intensivo usavamo lo slip della libreria 3 del cpp qui usiamo lo slip della libreria q3 di tutti ma è la stessa cosa ok quindi per mille iterazioni noi stiamo in sospeso di 10 millisecondi quindi blocchiamo per 10 millisecondi l'esecuzione e poi emettiamo ecco emettiamo un segnale e questo segnale che dovrebbe stare un po più giù no non emettiamo nessun segnale effettivamente invochiamo uno uno slot quindi invochiamo uno slot che andrà a aggiornare una barra di progresso quindi immagino che questo slot sarà una cosa del tipo guarda dimmi il valore del dell'avanzamento e il numero di step dell'avanzamento come dicevo prima se sono 15 mosse e io sto alla mossa i di 15 e questo dovrebbe disegnare la barra di progresso in effetti andandola a a vedere questo metodo questo metodo dice semplicemente se la barra di progresso di attiva io setto il valore che devo settare per disegnarla quindi devo dire qual è il minimo qual è il massimo qual è il valore attuale e chiedermi se ha finito perché quando ha finito gli sparo una finestra di dialogo molto semplice in cui dico ciao hai finito finisce dan e poi resetto tutto fine questa è l'applicazione che abbiamo appena visto ora senza andare nelle slide ora però sicuramente ci vorremmo andare ci vorremmo andare nelle slide per mettere un po tutto diciamo per iscritto in maniera più strutturata formalizzata però a me piace anche che i problemi emergano spontaneamente e quindi anche le risposte spontaneamente secondo voi che problema si è verificato in questa applicazione cioè perché io quando premo start non risponde più a quello che gli sto chiedendo di fare e uno dice vabbè stai su windows 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 fa schifo non è vero non sono d'accordo e allora andiamo su mac e premiamo start aia su mac persino l'aver premuto start start tra l'altro vedete rimane rimane attivo come se non si fosse de premuto e non c'è la barra di progresso però ha finito quindi comunque lui stava facendo nel frattempo quello che gli ho detto di fare semplicemente l'interfaccia grafica non si è aggiornata durante lo svolgimento del task che non è una coincidenza anche qui in questo caso non posso ridimensionare la finestra posso spostarla però ecco queste sono delle differenze tra i vari sistemi operativi posso spostare la finestra cosa che invece su windows su windows non posso fare comunque c'è un malfunzionamento qui c'è un malfunzionamento su mac os ci sarà vi assicuro un malfunzionamento su qualunque altro sistema operativo sì in questo caso sembra andato tutto bene ma sappiamo che questo non è vero in generale che è successo secondo voi che risposta vi dareste da ingegneri informatici junior su questa problematica perché ci sono questi malfunzionamenti eppure il codice è innocente non ci sono dei bug ve lo assicuro non c'è un bug perché sta succedendo questo provate ad azzardare una risposta non fa niente se non è corretta comunque ci stai provando dai una qualunque risposta forza forse perché la capacità di calcolo dedicata a quel programma del sistema operativo è pienamente sfruttata e noi non gli abbiamo detto di dedicarne di più ok quindi è un problema di risorsa nel senso che se ci fossero più risorse il programma avrebbe la capacità di occuparsi anche della grafica ho capito bene quello che voglio dire è che magari sistema operativo ha visto che doveva esicurare questo codice però gli ha dedicato un tot di risorsa e non di più noi invece andando a ridimensionare o andare a toccare altre cose durante il processo andiamo a sforare questa quantità di risorse stanziata dal sistema operativo in questo modo sforiamo e perciò si frizza ok io avrei risposto alla stessa cosa al suo posto allora qual è il fatto ragazzi che voi non avete fatto un corso di sistemi operativi quindi non avete una comprensione profonda del cosa fa il sistema operativo quindi ognuno di voi dentro di sé si dà delle risposte e questa è una risposta perfetta da c'è per quello che voi sapete questa è la risposta un ingegnere gli ingegneri si danno sempre delle risposte è una risposta che assolutamente è giusta rispetto a quello che voi sapete ora però io vi aggiorno vi do un delta di informazione in più il sistema operativo non alloca delle risorse particolari in termini di computazione per un processo ovvero se un processo ha bisogno di più e gli altri in quel momento no cioè sono sempre gli stessi il processo gliela da più 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 elaborazione anzi quando io prima ho giocato a scacchi in quel momento lo scacchi aveva bisogno di più di più cose io non gli ho detto nel codice ho bisogno di più il sito operativo gliela ha dato gli ha data molta 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 risorsa molta cpu gliela ha data perché il sistema operativo cerca un po di accontentare l'utente non i processi quindi se l'utente sta usando quel processo io lo sto usando questo è in primo piano ci sto interagendo il sistema operativo lo scopo del sistema operativo è accontentare l'utente magari per accontentare questo processo sta mettendo sta mettendo in sospensione qualche altro processo che sta qua sta mettendo in sospensione che ne so la mia presentazione di powerpoint ma va benissimo perché l'utente vuole questo processo in questo momento quindi non è un problema di allocazione delle risorse cioè questa applicazione volendo si può prendere tutto quello che c'è sul tavolo però non se lo prende in qualche modo quindi come mai come è possibile una cosa del genere allora ragazzi il problema sta nel fatto che prendo le slide su multithread quindi siamo nelle slide dqt torniamo in queste slide perché questo argomento importante per intelligenza artificiale e dobbiamo leggere una cosa che però vi avevo anticipato ma adesso però la capiamo un meglio nel thread c'è scritto gui thread che cos'è questo gui thread ragazzi il gui thread è il thread dove vive l'interfaccia grafica cioè quando il programma parte quando il programma parte nel main quando è che il programma parte allora noi sappiamo dalla programmazione multithread che il main è il thread principale vi ricordate noi nel main creavamo tramite appunto il costrutto della standard library del cps plus oggetti di tipo thread gli assegnavamo delle funzioni svolgevano queste funzioni in thread dedicati e poi convergevano morendo finendo poi nel thread principale quindi il thread principale è il main il main è il thread principale sono la stessa cosa quando però noi eseguiamo un'applicazione di qt cioè quando noi invochiamo questo exec non è ancora ben chiaro e non vi ho davvero ben spiegato quello che sta accadendo in questa riga mentre ormai più o meno questa riga l'abbiamo capita cioè quello che avviene dietro l'interfaccia grafiche abbiamo capito che ci sta un paint event che disegna le cose sulla base di se quella classe è un push button le disegna con quello grafica del sistema operativo oppure le posso disegnare con la mia grafica ci posso fare videogiochi questo argomento abbiamo sviscerato ma invece non abbiamo per nulla affrontato o almeno solo accennato l'argomento di cosa accade davvero quando eseguo una applicazione a livello proprio di sistema operativo appunto di risorse come diceva lei che cosa accade quello che accade ragazzi che questo exec crea un nuovo thread quindi il thread principale rimane qui qui viene creato un nuovo thread o opzionalmente quello che sta per avvenire potrebbe anche venire nel thread principale ma la cosa importante è quale ragazzi la cosa importante è che l'interfaccia grafica viene eseguita in un thread dedicato che si chiama GUI thread cioè il thread dell'interfaccia grafica grafica user interface ora in questo thread dell'interfaccia grafica fatemi prendere adesso questa questa slide in questo thread dell'interfaccia grafica avviene l'esecuzione dell'applicazione quando noi facciamo exec questo exec avviene dentro questo trend che significa come funzionano le interfacce grafiche non guardate tutte queste scritte concentrateli soltanto su questo disegno succede ragazzi che questo però ve l'ho spiegato come funziona le interfacce grafiche c'è un ciclo degli eventi che si mette in attesa che succeda qualcosa è un ciclo infinito quindi va avanti all'infinito quindi consuma in un certo senso anche se non è che fa elaborazione se nessuno fa niente il ciclo degli eventi non consuma la cpu ci mancherebbe se no tutte le interfacce grafiche di sistema operativo consumerebbero troppo a cpu però comunque si mette in attesa in attesa dei eventi la programmazione si dice ad eventi perché perché io clicco sul pulsante muovo la finestra faccio una ridimensionamento della finestra anche se solo clicco nello sfondo della finestra comunque io sto interagendo ogni interazione spostare il mouse cliccare col mouse usare la tastiera ciascuna di questi è un evento ora il ciclo degli eventi come funziona beh ogni volta che si trova davanti un evento lo processa vi ricordate quelle slide in cui vi dicevo come si processano gli eventi gli eventi vengono catturati nel sistema operativo vanno a finire in un mega dispatcher che poi li va a portare ai dispatcher specifici di quell'oggetto quindi la finestra in cui mi trovo avrà un dispatcher di tipo mouse double click event o mouse click event o mouse enter event o mouse leave event oppure keyboard event li abbiamo usati per i videogiochi in particolare il pulsante questo pulsante a un sì a un click event mouse click event che appunto quando ci clicco lui emette un segnale questo segnale lo recuperiamo noi nel codice perché l'abbiamo recuperato ed eseguiamo questo task che in effetti viene fatto partire ok tutto quello che ho detto avviene nel thread principale tutto quindi non solo il fatto che clicco qui ma anche il fatto che io poi gioco con questa finestra la sposto la ridimensiono clicco sugli altri bussanti clicco sullo sfondo anche solo che muove il mouse ogni azione ogni evento genera un oggetto di tipo evento e questo oggetto deve essere come nelle poste bisogna consegnarlo al destinatario e questo è un lavoro ragazzi immaginate che io per ogni movimento del mouse vengo generato un evento è una marea di cose che bisogna fare quindi non piccole cose tante cose che bisogna fare direi quasi un lavoro anzi chiamavolo proprio così è un lavoro ora se questo è un lavoro beh anche questo dove sta anche questo che io prima vi ho detto essere appunto il task cioè in italiano il lavoro che deve svolgere questa applicazione anche questo è un lavoro è il problema che ecco questa è la programmazione concorrente io devo eseguire questo lavoro qui e questo lavoro lavoro molto oneroso bisogna sembra di no lo so però il lavoro oneroso perché bisogna ogni 10 millisecondi tra l'altro io occupo la cpu per 10 millisecondi e poi devo aggiornare la barra di progresso quindi questo è un po quello che simula il lavoro immaginate che quasi sia un'intelligenza artificiale che sta facendo delle elaborazioni quindi abbiamo un lavoro corposo da una parte quindi un task da svolgere e poi abbiamo un altro lavoro corposo dall'altra parte cioè mantenere l'interfaccia interattiva viva un'interfaccia grafica e viva perché io posso interagire con essa ma questo poterci interagire non è una magia che mi piomba dall'alto ma c'è qualcuno che si occupa di fare questo lavoro ora il problema è proprio questo che il qualcuno che si occupa di svolgere questo lavoro lo fa su un thread che si chiama thread principale thread dell'interfaccia grafica è comunque quel thread tra l'altro tutte tutte le cose che hanno a che fare con la grafica con l'interazione si svolgono solo su quel thread non si possono dividere in 10 thread e fare che ne so il pulsante lo faccio lì la finestra la gestiscono lì la tabella la gestiscono lì non si può fare questo tutto deve essere centralizzato in un unico thread che si chiama appunto thread principale bene penso che adesso abbiamo tutti gli strumenti sul tavolo per capire che se il thread principale si occupa della grafica e io su quel thread ci faccio anche altro che non è grafica ma per esempio simulo le mille partite di bejeweld oppure vado a considerare tutte le ramificazioni degli scacchi le due cose entrano in conflitto più che conflitto in concorrenza quindi c'è la risorsa cpu che quella è voglio dire forse comincia a capire cosa intendeva il collega non è tutto sbagliato c'è una risorsa ma due entità la vogliono usare in maniera concorrente il problema che noi non abbiamo mai detto a sistema operativo che noi siamo due attori concorrenti vi ricordate la programmazione multi thread nella programmazione multi thread il sistema operativo sapeva che se il thread a e il thread b ma anche c di anche centomila thread vogliono quella risorsa cosa fa il sistema operativo fa contenti a tutti quindi la da un po da un po b un po c un po di eccetera eccetera quindi si sto per attivo sa come spartire la risorsa perché gli è stato detto che quel programma consiste in diversi tre di diversi filoni di esecuzione ma in questo momento il nostro programma non è diviso in thread anzi noi abbiamo un thread si è vero c'è il thread principale del main però in quel momento quello è rimasto un po lì appeso tra l'altro in qt a seconda sistema operativo può decidere che usa proprio quel thread come thread grafico ma non è questa distinzione che è importante quello che è importante ragazzi è che noi stiamo svolgendo un compito oneroso per la cpu e siamo all'interno di una classe una classe widget quindi una classe di interfaccia grafica quindi vogliamo fare due cose grosse nello stesso thread esistono operativo non sa che noi dobbiamo fare due cose in maniera concorrente quindi cosa fa sistema operativo come vi ho detto prima accontenta chi ne chiede di più quindi così come l'utente prima voleva che quella applicazione andasse veloce il resto si potevano mettere un po in sospensione così in questo caso vince chi chiede di più e chi chiede di più è sempre in questo caso purtroppo sempre questo ciclo perché questo ciclo per mille iterazioni in continuazione chiede uno sforzo alla cpu nello stesso momento anche io sto chiedendo uno sforzo ma uno sforzo più piccolo per esempio ringrandire la finestra premere un fare clic dentro la finestra eccetera ragazzi soldoni quello che succede che il sistema operativo dalla precedenza qualcosa anzi diciamo che più che dare la precedenza è il sistema operativo non sa di dover dare la precedenza a uno oppure all'altro si vede arrivare una montagna di calcoli e li svolge nella quantità che questi calcoli cioè se ci sono più calcoli per fare quel task svolge quelli e quando può svolge anche questi quindi quello che succede appunto dipende dal sistema operativo ecco perché ho detto dipende dal sistema operativo perché ebbè tanto dipende anche dal caso magari a volte si blocca a 24 45 magari se adesso ecco adesso si è bloccato a 45 però quello che succede ragazzi che l'applicazione non risponde più sta comunque seguendo i suoi i suoi i suoi calcoli alla fine quando avrà finito di fare tutti i calcoli che gli avrò detto il sistema operativo farà anche i calcoli dell'interfaccia grafica quindi comunque la finestra alla fine si ridimensiona si sblocca viene mostrata la finestra di dialogo che ha finito ma ormai è troppo tardi ormai l'applicazione si è raffrizzata anzi dite la verità quante volte vi è capitato che si frizzasse l'applicazione anche visto studio può capitare e voi un po diciamo la verità un po scazzati avete chiuso tutto è il fatto di partire a me è successo spesso è successo con word con powerpoint con viso studio diciamo la verità ragazzi succede spesso questa cosa perché l'utente ha una percezione che se l'applicazione si frizza è andato storto qualcosa devo chiudere e riaprire invece no molto probabilmente l'applicazione si sta frizzando perché non c'è una divisione netta di compiti ovvero il thread che si occupa della interfaccia grafica purtroppo in quel momento su quello stesso thread si sta facendo anche un'altra cosa e quindi non c'è il tempo per non c'è la frequenza in realtà perché il tempo ci sarà alla fine ma serve adesso farlo serve farlo con una certa frequenza non c'è il modo di aggiornare quell'interfaccia grafica in maniera real time così come l'utente vorrebbe l'utente vorrebbe che quella finestra io ci passo con mouse si illuminano i pulsanti io sposto la finestra si sposta anche se l'applicazione sta facendo qualcosa è quello che noi pretendiamo da tutte le applicazioni bene adesso mettiamo un po più le cose in maniera strutturata quindi abbiamo detto e abbiamo abbastanza sviscerato questa cosa che l'applicazione grafica di qt vive in un thread dedicato che si chiama gui thread e in questo thread viene sviscerato il ciclo degli eventi che significa che c'è un ciclo che processa tutti gli eventi grafici di interazione non solo grafici anche che ne so mi sono messo in attesa di una pagina web eventi in generale eventi solo questa scritta dovrebbe da sola dopo tutta questa discussione appunto far capire che questo ciclo degli eventi dovrebbe essere lasciato in pace perché sia adesso su quel thread ci faccio anche l'elaborazione dell'intelligenza artificiale sto ciclo degli eventi va relento e se lui va relento i miei input i miei le mie interazioni dell'utente vengono elaborate con lentezza e quindi l'applicazione non è che non va va ad una velocità che non è più real time e se non è più real time io utente mi cazzo scusatela il francesismo e quindi chiudo l'applicazione e basta è andata male molto male e non è quello che ovviamente noi vogliamo quindi nei vostri progetti non perché io mi arrabbio quando gioco ma devono essere progetti che comunque devono avere un minimo di livello di professionalità quindi se io sto giocando non mi piace che la finestra si colora di bianco perché si è frizzata è vero che poi alla fine si sbloccherà ma è una cosa che non si può presentare nessun diciamo nessun contesto professionale ok io vi sto dando lo strumento per risolvere questa cosa e vedremo che alla fine tutto questo discorso si tradurrà in veramente due cose quindi sembra veramente che uno vuole farvi la manfrina per poi alla fine fornirvi una soluzione semplice però quella soluzione semplice è importante capirla a fondo bene quindi abbiamo capito questa cosa è importante quindi non saturare il thread che si occupa della grafica del ciclo di eventi perché quello è un po' sacro bisogna lasciarlo stare altrimenti l'interfaccia grafica non è più realtà ok allora noi che possiamo fare vediamo un po' queste slide cercano di rispondere alla domanda ok ma che si può fare se noi quel thread lo dobbiamo lasciare stare beh intanto parliamo di thread e allora dobbiamo quindi dire che tutte queste proprie ho già detto tutte le gli oggetti grafici qui get cup x ma cup enter quindi tutte anche lo sim graphics framework sta tutto in esecuzione sul thread grafico che non è sempre vero questo potrebbe essere il thread principale del programma oppure tutti su quel sistema operativo potrebbe decidere di lasciare in pace il thread principale e creare spawnare un nuovo thread dedicato per l'interfaccia grafica quindi noi potremmo anche vedere un'applicazione qt che c'ha due thread quando partiamo anche se noi non abbiamo mai fatto questa cosa non abbiamo mai detto crea un nuovo thread ma tutti può decidere anche di creare 3 thread cioè quello che fa qt se io adesso eseguo un'applicazione anche nello world non è detto che sia uno il numero di 3 ad anzi probabilmente 234 perché qt in background fa anche altre cose ragazzi fa controlli dialoga con sistema operativo ci sono anche altre cose che non voglio complicare però quello che è importante sapere che comunque c'è un thread che quello deputato alla gestione della grafica quindi quel thread purtroppo è quello dove noi programmatori scriviamo quando noi scriviamo la classe widget my widget my window noi stiamo dentro quel thread quindi se in quel codice noi ci mettiamo un'elaborazione complessa come l'intelligenza artificiale e noi stiamo saturando quel thread quindi questo è il problema tra l'altro se noi anche proviamo a spostare in qualche modo ci viene in mente di eseguire questi queste queste grafiche in un thread diverso da quello principale qt crash quindi qt vi dice no tu le cose grafiche le devi fare dentro il thread grafico non solo le cose grafiche ma anche modificare le cose grafiche cioè se per esempio io dico che ne so a un cosa che fate nei progetti sette background di una pix map ok se vuoi questo set pix map se vuoi il set pix map lo fate da un thread che non è il thread grafico qt si incavola un'altra volta perché no tu le cose grafiche anche cambiare una proprietà di un oggetto grafico la devi fare nel thread principale quindi non è esatto non è nemmeno consentito modificarlo da un thread diverso ok allora qual è il problema è questo quindi quello che ho fatto vedere nel corso io come risolvo questo problema qui di dover per esempio aggiornare una barra di progresso che è un oggetto grafico mentre sto svolgendo un task complesso che impiega del tempo time consuming scaricare un file da web quindi quando voi scaricate da chrome o chi per altro browser vedete comunque una barra di progresso ma non è che il browser è bloccato anzi diciamo meglio il browser sono proprio l'esempio lampante di come in questo momento io sto questa applicazione qui sto mit sta consumando una marea di risorse ma non è che se adesso passo qui non posso fare questo lo posso fare quindi la grafica ha un suo thread tutti i dati che si scambiano con mit in questo momento c'è un altro thread eccetera eccetera io ho la sensazione appunto che tutta l'applicazione sia viva questo si può ottenere solo con una programmazione multi thread quindi adesso abbiamo capito come mai avviene che con questo codice che vi ho fatto vedere all'inizio si frizza l'applicazione ebbe si frizza perché siamo nel thread grafico e quindi fare questo significa interrompere di fatto o rallentare il ciclo degli eventi e quindi non reagiamo più l'interazione e quindi si frizza l'applicazione ogni sistema operativo dà delle priorità quindi per esempio il mac os ciao perché la finestra entra in me queste si sposta perché lo spostamento della finestra non è gestito solo dalla dall'applicazione ma dal sistema produttivo proprio direttamente quindi anche se l'applicazione è frizzata il sabretivo riesce a spostarla a meno nello desktop nello spazio di schermo però windows non è così quindi quello che davvero succederà dipende dal sistema operativo però comunque succederà qualcosa di brutto ok non è quello che deve succedere beh allora uno dice si ricorda che nella lezione della gestione degli eventi e quindi abbiamo detto come si genera un evento da sistema operativo tutti locatura nell'evento loop ci sta l'elaborazione degli eventi e vi avevo detto però capisco non lo ricordate infatti lo ricordo qui che c'è un metodo magico che io vedo usare molto spesso non dagli studenti ma a me capita di revisionare applicazioni fatte anche con tutti anche di scaricare applicazioni sono comunque stato coinvolto in diversi progetti e a volte vedo una cosa del genere vedo questo perché appunto è una specie di patch cioè una pezza per risolvere un problema ma come tutte le pezze prima o poi si buca di nuovo e succede il finimondo quindi cosa succede con cosa significa mettere una pezza con questo evento questo è un evento che si chiama process events e fa proprio quello che dice cioè processa tutti gli eventi che in quel momento stanno in attesa sull'event loop ok quindi significa che va bene allora uno dice il tuo problema che tu mentre fai questo task e ti si blocca l'interfaccia grafica perché non processi eventi allora dicono questi sviluppatori un po alle prime armi devo dire che hanno io ho visto fare questa cosa un po più da cinese non voglio fare discorsi discorsi di nazionalità però sono stato convolto in diversi progetti i ragazzi gli asiatici scrivono molto più codice di noi europei per ora e scrivono proprio tantissimo fanno dieci volte lavoro in europeo però a volte lo fanno così mi è capitato spesso di vedere questo process events un po dappertutto per diciamo spiccia di applicazione io sto facendo una cosa ok non voglio bloccarti allora processo tutti gli eventi che stanno in coda in questa maniera l'applicazione non si bloccherà perché appunto io sto comandando il ciclo degli eventi di fare lui i suoi e la buona quindi un po per uno sto facendo io sistemi operativi guarda un po faccio questo task un po faccio grafica un po questo un po questo un po questo bene questa soluzione è implementata effettivamente qui dentro si abilita abilitando la corrispondente macro che sta all'inizio del codice quindi define soluzione 2 questa soluzione 2 in realtà non è altro che dove sta soluzione 2 sta dentro il codice ecco qua la soluzione 2 differenza della soluzione 1 contiene in più questa riga cioè elabora tutti gli eventi in coda beh elabora tutti gli eventi in coda che succederà vediamo un po ricompilo questo però devo chiudere wow ha funzionato non si blocca più l'interfaccia vedete anche il pulsante si colora quando ci passo e questo è quello che del resto osserva il programmatore junior funziona quindi qual è il problema perché dobbiamo fasciarci la testa siamo sicuri che funziona osserviamo meglio adesso io provo a fare qualcosa di un po più diciamo importante avete notato non so la frequenza di aggiornamento di mit ma se notate anche se io faccio questo cioè se io continuo imperterrito a richiedere risorsa a livello di ciclo degli eventi mentre prima alla fine lui finiva quel task e ricordate prima lui finiva anche se si bloccava interfaccia grafica quindi interfaccia grafica non si blocca ma cos'è che è stato bloccato invece non c'è nessuno in questo momento mi ha detto che è finito il task perché il task non è finito lo sto interrompendo perché lo sto interrompendo perché sono io utente che facendo tante cose sto mettendo tanti eventi in coda al ciclo degli eventi e questo significa anche spostare la finestra in maniera caotica anche fare così significa che io aggiungo tante cose al ciclo degli eventi e quindi rallento stavolta non l'interfaccia grafica rallento il thread cioè scusate rallento il 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 task quello che stava svolgendo quel compito e quindi l'intelligenza artificiale ora a voi pare questa una soluzione l'intelligenza artificiale o altro a voi pare questa una soluzione buona quindi se sto scaricando un file da internet mi metto a curiosità nell'interfaccia grafica magari sto usando un altro un'altra scheda e rallenta lo scaricamento del file quindi se sto se mi sto scaricando in santa pace un torrent la che sono scaricando l'ultima serie uscita perché non mi va di pagare netflix mentre io gioco con l'applicazione magari sto settando delle applicazioni delle opzioni lui il download rate quindi la velocità va a zero perché non riesce a fare entrambe le cose a voi mi pare che questa sia una soluzione professionale perché personale direi che questa non è una soluzione perché per velocizzare interfaccia grafica ho sacrificato il task perché accade questo beh la risposta sta appunto nel codice cioè adesso che ho aggiunto questo process events se questo process events impiega tanto tempo diventa quindi un'attesa per la prossima iterazione del nostro task e quindi tra l'altro è una chiamata bloccante quindi adesso è il task che viene rallentato o addirittura interrotto ma è una cosa che dipende dal sistema operativo vediamo quindi via un po iniziamo adesso per la prima volta vediamo su mac che funziona e però niente tra l'altro vedete lo stesso effetto io gioco con la mia finestra e lui si blocca ma si blocca proprio non è che lui nel background sta andando avanti non sta andando avanti prima finiva in pochi secondi adesso non sta finendo e infatti io continuo niente non funziona se invece muovo la finestra lui va avanti per chi vi ha detto prima nel mac la finestra il movimento della finestra viene gestito proprio separatamente la sistema operativo ma ma qual è una cosa di sistema operativo in realtà abbiamo visto che comunque giocando con la finestra questa cosa ci riporta al problema che è il task ad essere interrotto bene allora che facciamo per decidere cosa fare dobbiamo saperne di più e visto che manca anche poco tempo adesso incominciamo a parlarne quindi cerchiamo di aggiungere qualche altro ingrediente alla ricetta però poi la ricetta la cuciniamo domani quindi domani vediamo come risolvere questo problema perché poi questa cosa dobbiamo portare dentro le nostre applicazioni voglio che questa cosa la capiate bene così che voi dentro le vostre applicazioni farete utilizzate un approccio in grado di risolvere questo problema una volta per tutte beh allora in qt c'è una classe non ci sorprende che si chiami q thread che serve a gestire appunto i thread è una sottoclasse di q object ed è una classe particolare perché ha eseguenti metodi che fanno le seguenti cose ha un metodo start che inizia l'esecuzione del thread invocando il metodo run quindi dentro start di questo qt ci sta la chiamata al proprio metodo run quindi in realtà è run che fa tutto cosa fa run tra l'altro è virtuale questo è un elemento chiave virtuale significa che può essere re implementato run viene eseguito su un nuovo thread wow quindi attenzione mi stai dicendo che io ho una classe che si chiama q thread e se io re implemento run perché virtual quello che ci metto dentro run viene eseguito in un nuovo thread è una garanzia ragazzi non è perché noi dobbiamo scevlarci e dio come faccio ad eseguire un nuovo thread mi devo andare a riprendere le lezioni del dei 30 molti trading nel inizio del corso devo spawnare un nuovo trend come si fa non si fa lo fa tutti per voi quindi q thread se volete fare l'override di run dentro run ci mettete tutta la vostra intelligenza artificiale e questa verrà eseguita sul nuovo thread e guarda caso è proprio quello che fa per esempio è proprio quello che insomma la maniera in cui ho predisposto per domani quando inventeremo minimax il nostro tris quindi ho predisposto cosa quindi gli ultimi 5 minuti poi finiamo ho predisposto un'applicazione che è fatta di tre classi una classe cella che serve a disegnare la singola cella del tris come per esempio la singola cella degli scacchi o la singola cella di tanti altri giochi che hanno la griglia come be g world come 2048 eccetera poi c'è una classe grafica che serve per gestire appunto questa griglia diciamo tutta la videata del gioco infatti è una vista grafica un po come un po come il pacman questo usa il grafici più fermo quindi borde è una vista grafica su una scena in cui ci saranno quelle celle e poi c'è il gioco stesso il gioco stesso è la logica del gioco questa è una cosa che ho detto a molti gruppi separare la logica dalla grafica la grafica è una vista che dentro c'è una scena e dentro questa scena ci saranno tre per tre celle nel caso del tris ma la grafica c'è anche un oggetto di tipo game questo è il core il cuore la logica del gioco che funziona separata dalla grafica infatti questo game al suo interno alcune elemento grafico anzi noi lo stiamo ereditando da q thread perché ci piace questa cosa di fare lo verrà del metodo run ma questa potrebbe essere anche una una classe che non usava proprio tutti potrebbe essere una classe che usava i thread della del cpi più standard e faceva le cose che doveva fare ora cosa fa questa classe questa classe gestisce il gioco il gioco nel senso come meccanica la logica del gioco quindi c'è una matrice di tre per tre caratteri vuoto x oppure pallino gestisce il turno del giocatore quindi booleano se il turno è del giocatore croce oppure pallino a un booleano per dire se c'è un'intelligenza artificiale che sta pensando la difficoltà che sarà poi la profondità dell'albero del taglio dell'albero e poi vabbè altre cose che ne parleremo domani ma in particolare cosa c'ha c'ha un metodo run e guardate eredita da q thread e ridefinisce il metodo run che significa ridefinire il metodo run che quando la grafica a un certo punto l'utente clicca da qualche parte clicca su una cella quindi da qualche parte l'utente il giocatore clicca questo corrisponderà a fare una mossa in una determinata casella a un certo punto guardate che succede si si va a fare la mossa del giocatore ma quando gioca il giocatore bisogna chiedere alla giocatore artificiale cosa fare eccolo qua adesso che il giocatore ha fatto la sua mossa e quindi assicurandoci che il turno sia della intelligenza artificiale si dice caro gioco sottoclasse di q thread start inizia a fare cosa start invocherà run quindi start un po come dire inizia a pensare come nel gioco dei scatti che ho fatto dire inizio della lezione io faccio la mossa la mossa mia termina chiedo all'intelligenza artificiale di fare la sua mossa e come chiedo dicendo inizia perché inizia perché quella mossa siccome ci vuole tempo per calcolarla bisogna farla in un nuovo 3 quindi start start automaticamente non l'ho implementato start e start è quello di q thread automaticamente start invocherà run quindi verrà eseguito il codice che sta dentro il gioco di metodo run ora di nuovo qui è un po come prima simuliamo un'intelligenza artificiale ma non l'abbiamo ancora implementata quindi che ne so dormiamo per mili millisecondi per un secondo generiamo una mossa a caso e poi notifichiamo che questa mostra l'abbiamo eseguita domani ci torniamo su questo però per dirvi che adesso questo tipo di soluzione ci consente di non bloccare il gioco quindi questo è il nostro tra l'altro ha mosso per primo l'avversario io faccio questa mossa aspetto un secondo e ne faccio un'altra faccio questa nel frattempo cercherò di giocare con l'interfaccia grafica lo posso fare perché lui comunque va avanti vedete l'ha fatta la mossa si l'ha fatta non me sono ancora stato veloce l'ha fatta quindi faccio così vabbè è una partita il giocatore artificiale gioca a caso quindi ho vinto si sto impacciando voglio dimostrarvi che vabbè per dimostrarvelo effettivamente basta aumentare questa cosa a cinque secondi cioè quindi aumentiamo il tempo di attesa vi faccio vedere che non stiamo bloccando il giocatore quindi vabbè sta giocando per inizio sta giocando il giocatore artificiale faccio la mia mossa per esempio continuo a muovere la mia finestra e lui comunque ha fatto la sua mossa vedete non c'è un bloccare il giocatore fa quello che gli pare l'utente fa quello che gli pare l'intelligenza artificiale continua a fare il suo compito ok domani torniamo su questo quindi implementeremo minimax lo implementeremo con questo tipo di soluzione e quindi non bloccheremo la nostra interfaccia grafica la lezione termina qui grazie